Nella giornata in cui nessun fattore campo è stato ribaltato, non fa eccezione il posticipo del lunedì sera al Paladel Mauro di Avellino. I padroni di casa della Sidiga sbattono Pistoia per 73-69, salendo a quota 20 in classifica e continuando a cullare il sogno play-off, vera e propria utopia fino ad un mese fa. Play-off che, nonostante la sconfitta, sono però ancora alla portata di Pistoia, che sarà artefice del proprio destino nelle prossime quattro impegnative gare. La Giorgio Tesi Group scende in Irpini ancora senza Cinciarini, ma con un Tony Isley in grande spolvero, con otto punti nel solo primo quarto. Due triple del folletto Marquez Green inaugurano il secondo quarto. CJ Williams interrompe un parziale di 10-5 in favore dei padroni di casa, che subito tornano a sparare da dietro l'arco dei 6-75, stavolta con due triple di Justin Harper, chiudendo il primo tempo in vantaggio 41-37 e con un insolito 5-14 da 3, per una delle squadre meno prolifiche col tiro pesante. In avvio di terzo quarto torna a segnare Tony Isley, rimasto a secco nel quarto precedente, toccando la doppia cifra subito seguito da Anosike. Pistoia torna prepotentemente in corsa con un parziale di 4-12, grazie anche a CJ Williams, che alla fine sarà il miglior realizzatore toscano con 16 punti. Sundiata Gaines non sfrutta un antisportivo rimediato su fallo di Milburn, ma una trilpa di Harper prima e un gioco da 3 punti di Banks poi, ancora una volta su fallo di Milburn, spedisce la partita in parità sul 53-53, al quarto quarto che si preannuncia decisivo. Le percentuali al tiro basse fatte registrare nei tre quarti precedenti si alzano leggermente nell'ultimo parziale. CJ Williams infila due trilpe consecutive, ma Harper sembra essere il più presente dei biancoverdi, convertendo un altro gioco da 3 punti. L'altalena dei parziali prosegue per tutto il quarto quarto. Sul 71-69, con 21 secondi ancora da giocare, Milburn tenta di agguantare il pareggio andando in penetrazione, ma viene murato da Harper, che poi rifila la stoppata giudicata regolare anche sul susseguente nuovo tentativo dell'ala americana di Pistoia, chiudendo di fatto la via del canestro e della vittoria ai toscani. Gli ultimi due liberi, in totale Avellino ne ha battuti 23 contro gli otto di Pistoia, convertiti da Marquez Green, che dunque ritocca il massimo stagionale con 15 punti, servono a glissare il risultato finale sul 73-69 in favore della squadra di Frates.